Ciao, vorrei esprimere i fattori positivi e negativi di internet e del web nella mia vita. Beh, sicuramente positivo il fatto che mi ha offerto la possibilità di comunicare con tutto il mondo, persona fisica, società e così via, in modo rapido ed efficiente. E di questo sicuramente occorre darne atto.